Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di TheBattleCats Riavomi le like, condividete il video, iscrivetevi al canale di essere nuovi Lasciate il hashtag TheBattleCats con sottolineamenti per ricevere un codicino E andiamo avanti con questa nuova puntata Allora, nella puntata precedente non ci siamo riusciti ad arrivare a 200 like Lo ripropongo, se arriviamo a 200 like mi apro una qualsiasi di queste per 11 Senza neanche che mi serva in pratica Quindi andiamo direttamente a aprirla se arriviamo ai 200, mi piace Allora, andiamo avanti, le solite mio capsule farmate da parte Ce le andiamo a aprire al solito Così ci da un po' di robina per fare magari qualche mio biglietto in più Ok, da mettere da parte per quanto ci sarà qualche Epic Fest, Uber Fest e simili E facciamo anche qualche punto, giustamente, NP Scambio con biglietto, solo due capsule, quindi un mio biglietto raro Tutto il resto diventano NP Ok Sì, giustamente non me le fa usare perché già ce l'ho pieni Quindi scambio tutto per NP E arriviamo a 60 punticini Quindi già potremo fare qualche potenziamento importante Allora, intanto mi faccio un potenziamento Prima di andare a fare i nostri eventi Su un'ostra delle Uber Ok Mi vado a potenziare con i semi-AQ Direttamente il nostro stupendo anti-zombie Che è il discepolo Psicotagi Lo facciamo diventare la forma evoluta che è un atroccolo malefico Ok, molto interessante Andiamo, giustamente per poterlo fare Nella nostra rimessa dove ho farmato un po' di semini Quindi quei 5 semini, eccoli qua E andiamo a fare cresci Che ne servono 5, perfetto Facciamo un bellissimo fiutto grosso Un mio grume AQ E andiamo direttamente a potenziarcelo Così magari se ci capita di avere un po' di tempo In questa puntata lo andiamo anche ad utilizzare Allora, ultra rari E andiamo da lui Che dovrebbe essere più avanti A parte bastare schifo zombie Lo trovavamo Evolvi Discepolo Psicotagi Non costa neanche tanta robina Via Evolviamolo Così abbiamo qualcos'altro nuovo Contro AQ Vai così Speriamo di aver fatto la scelta giusta Perché so che questo fa abbastanza danni E non è male come persona giueno In più prende anche schiva valanga E immune a veleno Quindi può essere buono per alcuni stage specifici Allora, oggi cosa andiamo a fare? Ho visto che ci sono degli eventi appositi Uno l'andiamo a fare insieme Che è uno dei nuovi all star Che dovrebbe essere qui il gran giubileo E poi andiamo avanti nelle storie Anzi nelle leggende misteriose Fino al gatto che mi avete detto come nemico Che si troverà appunto alla fine di questa saga leggendaria Allora direi di andare direttamente in gioco Facciamo il primo che è Scoppio del Megatone Interessantissimo perché se non erro è lo stage Che c'ha la pallina di neve Se non sbaglio Dovrebbe esserci la pallina di neve che viene tirata L'ho appena vista volare Fantastica Ok Allora qua si usano in pratica Mi shield octopus per le ondate E gatti A lunga distanza Quindi niente di eccezionale Una volta che mi shieldato in modo corretto Questo stage è fatto Nessun problema logistico Ok Metto prima l'MK2 Che è tank Va benissimo Ci sono gli uccelletti Che non ci danno troppi problemi La prima fetta è soltanto per le combo Quindi non vi preoccupate Vediamo un po' se riusciamo a portarci a casa Qualcosina Intanto l'Octopus è meglio metterselo Che se escono le ondate poi sono guai E poi andiamo con il nostro bellissimo Gattino là dietro Il nostro stupendo ultra galattico Che ci fa da danni a distanza Importanti Vai bene così Come vedete per ora è tutto in stallo Senza troppi problemi È morto l'MK2 però Quello non me l'aspettavo Forse il mio MK2 è ancora troppo debole Va bene così Tanto ci abbiamo il galaxy Quindi nessun problema Si tratta solo di traccheggiare Aspettare E poi andare a combattere Effettivamente contro il nemico vero Allora in questo caso I gatti fratelli gelati Sono comodissimi Uno perché sono immuni ad ondate Due perché sono anti Creature traitless In questo caso Abbiamo quell'elefante Alla dietro che è traitless E quindi fanno anche un po' di slow Importante Ok Allora tutto nella norma Sbam Un bel colpo dal galaxy Vai facciamo un piccolo knockback Con la torre E speriamo di reggere questo ritmo Sembra che per ora tutto Pace Speriamo di rimanere così Anche perché il galaxy Penso che non possa Portare indietro tutte le unità Perché non è una cosa Anti traitless Va bene però Che colpisce a dare in quella maniera Ah il galaxy è stato colpito Penso probabilmente Dall'ondata del Dellefante O dalle palline di ghiaccio Va bene Diciamo che ci stiamo Tenendo abbastanza Lì di fronte Il galaxy è stato colpito Una volta E ciò mi preoccupa un po' Devo stare attento A mettere sempre L'octopus sul terreno Vai così Ok Prendo un sacco di unità E faccio un bel po' Di dannini Ma io non capisco come fa passare L'ondata Se c'è l'octopus So che l'elefante C'ha il 100% Di ondata Bam Riendietreggiamoli un po' Ok Cerchiamo di tenerli Più fermi possibili La davanti Fortuna che c'è il nostro Stupendo Octopus Ole Ho fatto un bordello Di punti Posso tra un po' Evocare un altro Super Galaxy Che ci farebbe Molto comodo In questo momento Coppio del Megatone Folle Più che altro Che non ho unità Tritteless Importanti Forse il Ganesh Poteva darci una zampetta Ipotizzo eh Ok Sbam Mamma mia Che colpi ad aria Abbiamo devastato tutto È rimasto solo l'elefante Vai Secondo Galaxy Anche MK2 Che non è servito Sinceramente Pensavo fosse un po' Meglio Ok E cerchiamo di tenerli Fermo l'elefante Mentre lo eliminiamo Col doppio Galaxy Bam Ok Devo stare attento A mettere gli Octopus Perché se no Prendiamo botte Oh è andato giù Top Quindi penso che questo stage Scoppio del Megatone Folle Sia finito Questo è uno stage Che si può rifare Mi sembra Due o tre volte lo stesso E può dare un milione Di esperienza Di reward Ok È un po' impegnativo Come vedete Almeno che non avete Proprio unità Posta Tritteless Tipo un bel D'Artagnano Di quelli Tritteless Però Uno stage Fattibilissimo E che dovrebbe darci Comunque quei 30 Friskat regalati Che non ci dispiacciono mai Li mettiamo a pizzo Ok Non posso evocare più niente Quindi si tratta solo Di aspettare che i Galaxy Tirano i botti Alla torre E non solo A posto Scoppio del Megatone Portato a casa Un milione di esperienza Precisa precisa Perché la probabilità Era il 20% E ho scoperto Il livello inferiore Giustamente 30 Friskat Leadership E adesso andiamo A fare una sfiga Sì una sfiga Una sfida Fantastico La sfiga È il top Allora Sopra è solo combo In questo stage Non serve a nient'altro Gatellite a manetta Niente di più E niente di meno E si va soltanto Di spam di Gatellite Per tenere fermi là Ecco Più che altro Dovremmo portarci Un break Non mi sembra Che la torre L'ho messa giusta Stavolta Oh oh Sono riusciti a colpirmi Va bene C'è la Valkyria Ti portiamo la Valkyria Che è immune A quasi tutte le cose Compreso lo stun Questo è un ottimo stage Per utilizzare la Valkyria Raga Vai mettiamo pure il Bemot No l'ho tirato male Ok l'elefante È già andato giù Ragazzi ci pensa solo La Valkyria Da sola soletta Ok spero di riuscire A colpire Il Bemot L'abbiamo sprecato La Valkyria sta là E non ha problemi Break Il Bemot è riuscito A passare Perfetto Chi fa la spia Penso che lo porteremo A casa In velocità Ragazzi Senza troppi problemi Vai Portatolo velocissimo 283.000 Carbone E meteora Altro stage Instant Suore in fuga Ok Allora ho sbagliato Già ho sbagliato Però va bene così Non è un problema grave Ce la dovremmo fare Ugualmente Speriamo Di farcelo Ugualmente Ok Allora Noi dovremmo riuscire A buttare giù La face E poi Immediatamente Andare di Bemot Appena possibile Ok Messo il Bemot Dobbiamo riuscire A buttare la torre giù Prima che esce la roba Abbiamo fatto subito Qui sarebbero uscite Le cyber face Mattoni Oro E ammonite 20 cyber face Sarebbero uscite E ora siamo Allo stage Mossa del gatto rosso Allora Questo stage Sembra complicato Ma non lo è Ok Allora da quello che si è capito L'importante è averci Tanti gatti moderni E giustamente I nostri stupendi Gatto rodeo Potenziati talentati Bastano questi E da lì Non si dovrebbero muovere più Di norma Anche se Mi sembra che La farfalla Ci sta comunque Colpendo il rodeo Ok Dobbiamo spammare In pratica Il gatto Moderno E il rodeo Fino a che possiamo Anzi forse solo il gatto rodeo Bastava Cioè il gatto moderno Scusate Perché la farfalla Ci colpisce Però non può andare Più avanti di quello Invece Il nostro gatto divinità Dovrebbe tirare Una botta di quelle Importantissime Eccolo qua che arriva Infatti sta facendo I suoi sporchi danni Più il suo stupendo Knockback E adesso faremo Tutto così Metteremo tutte le unità Adatte per la distanza Perché possiamo farlo Abbiamo il tempo Materiale Ok Oh Hai riuscito a prendermela Come ha fatto Regà C'è qualcosa che non cosa Va bene Tanto ci abbiamo pure Padra Nessun problema Ok Andiamo di modern E ci siamo Belli tranquilli Ok Che altro mi servirebbe Pure la mitama Quasi quasi Mettiamo subito La nostra mitama Sì Ok L'altro piccolo Knockback Stun Ti sta piacendo Questa cosa Anche se Ci eliminano Sempre il nostro Rodeo Perché non riesce A tirare sufficienti Attacchi Mitama Tu sei a distanza Mi chiedo Perché ti fai colpire Dalla farfalla C'è qualcosa Che non mi torna Però ok Probabilmente è solo La farfalla Il nostro problema Vero Proviamo Ganesh Perché pure Ganesh C'ha raggio Molto corto Forse mitama Dove aspettare Dopo che la farfalla Era andata giù Ad evocarlo E mi sa Proprio di sì Ok Il mega pugno Colpisce È stato colpito Però Vabbè Si potenzierà Va bene Così Allora Il bemot A sto punto Ho paura Che sia inutile Lo stesso Piano piano Stiamo avanzando Il problema È quello che esce Dalla torre Quindi Potremmo essere Tanto nei guai Vediamo un po' Olè Aia Mitama Poerina Per fortuna Che è resistentissima Quindi ci mette Un bel po' A morire La mitama Mega pugno Per favore Piglalo La farfallina Non more Però L'importante È che non può Fa niente Mitama è ancora Viva Sopravvive All'infinito Ormai Ok Ultrarampasalan Riesce comunque A conok Beccarle A stunnarla Forse mi serviva Qualche danno Impuso Antico Però come vedete Non c'è un grosso problema Anzi tra un po' L'evochiamo Tutte le uberone Olè Una volta A buttare giù Sta farfalla Ci dovremmo stare Ok Mitama Immortale Comunque Mi piace Sta cosa Ok È andato giù E questo è il problema Adesso Adesso Mi serve Assolutamente Il rodeo Ok Che rodeo Slowa E il behemoth Però qui Non ce la fa Colpire Però Mitama Si Con la sua distanza Ce la fa Dalla Ok Adesso Il rodeo Lo possiamo Iper spammare Per creare La copertura Per quello Che esce Dopo Vai Così Ci siamo Belli pronti Da lì Non si sposta Più Speriamo Guardare come attacca Veloce Maledetta Maledetto Struzzo Ok Un po' Riescavo Ganasone Amitama Intanto Ultrampasala Per favore Un bello Struzzino Non ci dispiace Altro Ganesh Vai così Ok In pratica I rodeo Stanno rimanendo Vivi Perché stanno A differenza Distanza Dal coso Qua Dallo Struzzo Antico E quindi Il suo slow Funziona Vai Ultralan Boom Perfetto Mitama Ritorna Ok Allora Rievocato tutto Mi manca Soltanto Rievocare Il coso Si chiama L'angelo Divino Ok Tutto nella Norma e tranquillità Più totale Sto colpendo Anche la torre Nel frattempo Ok Quello non è male Per niente Sbam Ristunnato E ricolpiamo La torre Ok Tra un po' Elimino la torre Prima di eliminare Lui Manco esce Il coso grosso Se non esce Una percentuale Della vita Della torre Fantastico Ok Lo stiamo tenendo In stallo Alla davanti Senza problemi Enormi Stunnato Totalmente Grazie al Pazalan Volè Secondo me Così buttiamo Giù la torre Senza avere Manco il boss Assonde pugni De Ganesh Sarebbe Fantastico Ok Che piace Ancora vivo Lui Ganesh Si è potenziato Adesso Adesso Vai Ho creato Questa situazione Stupenda Di stallo Lì davanti Ragazza Succede Quello che Penso Non vuole Di Cosa che Lo facciamo Senza far uscire L'altra unità Sarebbe top Oh Sta scende No E' stato eliminato Peccato Sarebbe stato Bellissimo Vabbè Adesso si tratta Solo di Menaglie male Ok Anche perché Lo iper Sloviamo Lo teniamo fermo Lì Con la mitama E tutto il resto Non si muove più Tanta preoccupazione Per questa unità Invece E' abbastanza Easy da portare A casa Probabilmente Sunnato Dall'ultra Pasalan Se piace Oppa Addirittura Ho visto Ancora Becchi di danni Vai Ganesh Facci sognare Sta arrivando Il gatto Divinità Che qua Lo perm Terrà Sotto torre Sempre se Non viene toccato Perché non è detto Eh Lo slow Funziona Oh Abbiamo buttato Giù l'autore Senza buttaggio lui Meteorossa Bestiali Ammonite What Giustamente 30 pescate Leadership Allora Andiamo a fare Uno steijaku Thailandia Vediamo un po' Se ci riusciamo Ok Per ora Nessun problema Logistico Tutte cose Che abbiamo Già visto Direi di mandare La nostra tartarughina A tenere un po' Ferma la situazione Mazza Ha eliminato Immediatamente Gli stickman Ci è piaciuta Questa cosa Ok Vorrei evocare Giustamente Anadroccolo Malefico Per vedere Quanto ci può dare Una mano Anche perché Costa Veramente tanto Regà Tenerlo in campo Quindi Devi fare il suo lavoro Se no lo mandiamo a casuccia No scherzo Penso che sia un ottimo Un'ottima unità Anche perché colpisce Ad area A distanza Sembra che funziona Ha fatto un Serio danno Noi mettiamo pure Il piccoletto 3.600 A distanza Potremmo Veramente Aver trovato Un'ottima Unità Bam Dai Fai pulizia E che sta a succedere Ottimo E l'andria Ce la portiamo a casa Tranquilli oggi Forse Vai Metto pure Un cyber Panchino Ok Anche perché Non so se Arriveranno Unità Interessanti Dopo Per ora È solo Uno spam Di Aku Ok Allora lui attacca Vicino E l'altro tizio Questo Satoru Attacca Distanza Quindi in pratica Abbinando le due cose Facciamo una bella polizia Ok Ho messo tutta la build sul terreno Più diverse tartarughine A fare cover Bene Così Sbam Niente male Probabilmente lui è buono Contro i boss Magari contro il gorilla Una bella botta secca Non sarebbe mica male Tailandia Ce la portiamo a casa Tranchi Poi se Vedo le brutte Che siamo un po' Accorto con il tempo Ci mettiamo a fare Anche altri stage Di quelli Delle leggende misteriose Del prossimo Così almeno Ci tiriamo un po' Avanti Ok Metto un'altra bella Tartaruga Ormai ho piazzato Più tartarughe Sul terreno Ok Quelle terranno fermi Tutto il passaggio Dei prossimi Che escono Dalla torre Un bel surgi In faccia Tutte le mie unità Bene Penso che Tailandia Lo portiamo a casa Easy E ci facciamo pure Il level up Quindi al 12 Ale Dopo provo l'altra Ma l'altra Penso di non riuscirla a fare Perché è molto più in là È molto più grossa Ok Tailandia portata a casa E giustamente Livello 12 Mi tocca provare Arabia Saudita Ok Siamo livello 12 Quindi abbiamo preso Un potenziamento Leggero in più Direi di andare subito Di talta Voga Ci sono dei Minion normali Ok Quelli vengono Shotati pure Dalla tartaruga Direttamente Sembra che per ora Abbiamo il tempo Di evocare cose Ok Arriva la scimmia Per ora Solo la scimmia Quindi vorrei provare A esagerare Vediamo un po' Se lui funziona Se lui è abbastanza Forte da eliminare Scimmia Direi che Stiamo a cavallo Perché la scimmia Da quella maniera Detta è un per 3 Per 5 Roba del genere E quindi ci può dare Seri problemi Aia Ma ha colpito l'Uber Non va bene Questa cosa Però colpiamo Direttamente lui Ah si Due colpi e va giù Che bello Che bellezza ragazzi Due colpi Della nostra Uberona Aku E butta giù La scimmia La scimmia ci dava Un bel po' Di problemi Negli stage precedenti Quindi Oserei dire Che è stata una fortuna Prenderla Ok Io direi Di mettere il cyber E' un po' lento Quindi è meglio Metterlo per primo E il resto Tutto Mi shield Tanto sono Serpentini rossi Che non ci fanno Tutta questa preoccupazione La tartaruga La metto per Eventuali casi In cui continuano A ripusciarci Ok Vai così Mettiamo un po' di soldini Mettiamo l'altro Anti-Acu E direi che ci siamo Vediamo un po' Cosa esce dalla torre Oh Unità red Ok Il bello Il bello è che noi Adesso colpiamo Le scimmie così Sono due scimmie Una dietro All'altro Sbaglio Vedo male Quindi Adesso faccio Una double kill Su scimmie Ah si Che bello Che bello Come vanno giù Subito le scimmie Adesso Che poi Sono nero Lui Anche anti red Quindi se riusciamo A avvicinarci Abbastanza Con lui Dovremmo riuscire A colpire Pure Il boss Niente male E ne posso evocare Un altro Tra un po' Se sta già ricaricando Poserei dire Fortunelli Ok C'è la Kyle Là davanti Dai Cariano scimmie Noi le devastiamo Che bello Vale Ma ci sta ancora Là dietro Non lo vedo No Mi sa che mi è morto Ai 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 Brutta notizia Però non è un problema Sembra che ce la stiamo Ancora a gestire Eh So sti uccelletti Con l'ondate Forse mi serviva Un octopus No non è un'ondata È un attacco Ad area Ok Speriamo che riesce A ritornarmi in vita Subito Lui che ammazza Comunque Rossi E Aku Il cyberpunk Sta facendo Il suo dovere Facciamo pure noi In con un occhio becchino Con la torre Eh Siamo un po' stretti A mio parere Cominciano a push Un po' troppo La vedo un po' brutta Dovevo mettere qualcosa Antifluttuante C'è la Kai In verità Però Mi è morta subito Quindi Non è Un'ottima situazione Questa Se metto la Kai Da sola adesso Muore Quindi io direi Di aspettare pure l'altro Vediamo un po' Se ce la facciamo Tra che già non penso Quindi devo per forza evocarla Ai 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 Eh niente La Kai me more Sicuro a palla Stanno pushando tantissimo Regà Cioè è fattibile Ma devo gestirla In modo diverso Ne sa Ok metto l'Octopus Proviamo in un'altra maniera Invece che l'Octopus Ho deciso di mettere Il Camera Get Ok Quindi Adesso noi dovremmo Cercare di Tenere fermo Sto scogliattolo Tanto viene eliminato Dal sniper Di cat Quindi dal gatto cecchino E Aspettiamo che esce La scimmia La scimmia abbiamo capito Che possiamo eliminarla Con Anatroccolo malefico Quindi facciamo avvicinare Un po' Il nostro nemico Di cui non abbiamo Tutta questa paura Fortunatamente Ecco Ho paura per la mia tartaruga Per quanto possa essere potente Che prende un sacco Di botte Ok Mettiamo un sacco Di command get Oh stanno a push Un po' troppo però Prego elimina Quella scimmia Grazie Ok Allora adesso Noi dovremmo Aspettare di Prendere un po' Di dindini Fatti in modo concreto Quindi solo Mi shieldando E evocare Tutto insieme Anse Cyber E poi anche la prima cosa Che vogliamo Perché è lento E poi vogliamo anche Il gatto cecchino Da precisione Perché è lentissimo Ok Quindi gestiamola In questa maniera Un po' più Risparmiosa Va bene Così Mettiamo L'antiagu Che è lento A camminare E andiamo in ordine Cerchiamo di evocare Tutto quello che possiamo evocare Ok Allora Gli scogliattolini Non mi danno Tutto questo pensiero Però So sempre scogliattolini Vai Mettiamo l'altro Antiagu E mi manca Soltanto L'akai Ecco Forse l'akai Mi sarebbe servita prima E questo potrebbe essere Un grosso problema Anche perché adesso Arrivano con un back di quelli Dalla torre Bam Ale Eccolo che escono Allora Cerchiamo di Metshieldare Il più possibile Ok Non so se Command Cat Hanno resistito A qualche colpo Vai Dovrei avere ancora L'ammazza là dietro Nascosto Vai l'akai Sono riuscito a metterla Non lo vedo Perché ci sta L'altro boss davanti Come faccio A sapere se è ancora vivo Va bene Tramponevo con altro Ok Cominciamo a Eliminare un po' di robina Sarà grazie all'akai Ho la disposizione Tutta insieme Delle uber Però Già Sembra un'altra situazione Ok Sembra che stiamo avanzando L'akai è viva Ok Un colpetto alla torre Che magari colpiamo pure Quello rosso là dietro Sarebbe il top Sembra che stiamo Pushando molto di più di prima Eh però Sono uscite altre scimmie Ok Per ora Sembra che stiamo reggendo Però abbiamo finito Le uber Non ce ne abbiamo più Una sul terreno In pratica Questo non è un bene È rimasto solo il cyberpunk Ok È fattibile È fattibile Devo starmi zitto Perché è fattibile Non mi devo portare Sfortuna da solo Ok La scimmie viene Con un'occhio beccatello Allo sniper De get Abbiamo rimesso Un'unità Anti-acqua adesso Quindi Una uber È tornata Fortunatamente Ok Con manchetto Continuano a funzionare Perché comunque Hanno sopravvivenza Pure loro Quindi oltre che Combattere bene Contro i volanti Combattono bene In generico Ecco Se riusciamo a mettere Di nuovo le uber Forse Forse riusciamo Eh Non voglio grittorio Troppo presto Forse Forse Ok Allora Colpiti ad aria Dalla Kai Tutti altri Sti uccelletti Maledetti Che non vanno giù La scimmia Eliminata Finalmente Volee Vai Kai Ti prego Smonta quei volatili Niente Non muoiono I volanti Non muoiono Ok Posso eliminare Tutta la roba rossa Quello che c'è dietro Ma Sti cavolo di piccioni Sono pazzia Hanno retto Di tutto Hanno retto Ok Sembra che sono finiti Iaku Quindi penso Che riusciremo Ad andare oltre Vediamo un po' Se ce la caviamo Ok Per ora ci siamo Dai Stiamo attaccando Lui E' un rosso Quindi Questo qui Dovrebbe riuscire A fare danni buoni Anatroccolo Vediamo un po' Perfetto Colpo della Kai Invece di prendere lui Abbiamo preso il serpentino Quindi penso E' solo questione di tempo Da buttarlo giù Raga I colpi Li sta a prendere Quindi Oh oh E' stato colpito pure Lui Madonna Ma ha devastato Tutti Uber Tutti Non è sopravvissuto Uno Pazzia Ok Direi che A sto punto Cerchiamo di Mantenerci un po' Di dindi da parte Perché il knockback E' progressivo Cioè guardare Rischia sempre Di one shot Aspettarci Uber Non è un bene Assolutamente Ok Un altro knockback Lo sniper The cat Il suo dovere Lo fa Perfetto Direi che possiamo Anche provare A evocare la Kai Che prima che arriva L'attacco Riesce a passare Magari No E' stato Knockback Cavolo Va bene Dai Siamo quasi sotto Torre Ci siamo Belli cattivi Ok Dobbiamo aspettare Soltanto Le Uberone Cyberpunk sta lì Sniper sta lì Quindi è solo Questione di pazienza Ci portiamo anche Arabia Saudita A casa Ok Bam Cronoth Becchino ha preso I serpentini I serpentini Maledetti Vabbè Fa niente Che lo possiamo fare Dobbiamo solo Attendere Con grande pazienza Ecco qua Uno speed up Avrebbe fatto comodo Più che altro C'è lo snipe The cat Disattivato Non so perché Lo deve aver disattivato Per sbaglio Ok Bam Però era tutto Nella norma Oserei dire I serpentini Che continuano A difenderlo A manetta Non ci vogliono Far proprio Avvicinare Ok Dei danni Li sta ricevendo Penso pure Dallo snipe Cannon Olè Buttato giù Perfetto Arabia Saudita Portato A casetta Ci piace Quindi arriviamo A livello 13 Ditemi qua sotto Nei commenti Come sto andando Con i Yaku E Assolutamente Mi raccomando Condividete il video Lasciate mi piace Se arriviamo a 200 Mi piace Apro 11 Per Anche senza Che mi serve Ok Vai Arabia Saudita Ci siamo Belli cattivi La torre La torre Era un po' Grande Quante erano 400.000 Manco tanto Perché le unità Che c'ho Non facevano Tanti danni secchi Vai 23.000 Giustamente L'altare Agua È stato Distrutto Alcuni Livelli Ripristinati Livello 13 Niente male Direi che ci possiamo Accontentare Ragazzi La prossima volta Andiamo avanti Ancora Nelle Saghe Leggendarie Anzi Nelle Leggende Misteriose Andremo avanti Se ci riusciamo Pure con altri Sei giaco Se ce li sbloccano E giustamente Vedremo altre Cosine Nuove Arriviamo A mille like Condividere i video Iscrivetevi al canale Se no Lascia l'hashtag TheBattleCats Qua sotto i momenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Nel prossimo video